Ben ritrovati amici rossoneri come state? La voce non c'è più colpa di Giroud, la voce è andata via, è colpa di Messias, la voce mi ha detto ciao, è stato anche Leao. Un saluto ragazzi, è quando le cose vanno bene, siamo tutti più allegri, più felici e spero che questo possa essere il sentimento, lo stato d'animo di tutti voi. Davvero io oggi sono molto 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 carico, l'avete visto in tantissime nelle pagelle di questa mattina dove mi sono lasciato andare, quindi se lo avete ancora visto al termine di questo video vi rimando a quello bello bello bello, i video che ci piacciono tanto tanto tanto. Ragazzi, se anche voi siete uforici lasciate un bel like qui sotto, iscrivetevi, attivate la campanella se lo avete ancora fatto, se non siete ancora dei nostri, gratuito ovviamente, e fate iscrivere anche i vostri amici. Ne mancano pochi, arriviamo a 69 Milan, puntiamo i 70 e poi punteremo i 100. Se fate iscrivere tra amici, scrivete i loro nomi, uno di voi verrà estratto e vincerà la maglia del Milan tra meno di un mese, non lo state facendo in tanti, quindi se lo fate avete più possibilità di vincere il 14 febbraio. Ragazzi, davvero, faccio anche un po' mea culpa, nel senso che poi non era facile essere ottimisti dopo quella serie incredibile di assenze, una dietro l'altra, concentrate poi in un reparto, mi ero un po' scoraggiato, sinceramente. Faccio tesoro di questa lezione e prometto, magari anche voi lo farete, che nelle prossime situazioni di difficoltà, sperando non ce ne siano tante altre, ci ricorderemo di questa gara e penseremo che davvero questa squadra va oltre le assenze spesso, va oltre le difficoltà spesso e si dimostra una squadra con la S maiuscola. Davvero, il senso puro del concetto di squadra è ieri emerso, ma sono emersi anche altri concetti. Poi ci sono alcune cose che mi danno fastidio, ma dopo mi scateno in un altro video, ragazzi, e le canto e le suono a tutti. Intanto una cosa su Murigno, che poi fa, Murigno ogni volta che perde deve tirare fuori sempre qualcosa, dice tre anni fa ha rifiutato il Milan, intanto non è che ha rifiutato il Milan. C'era stato un sondaggio, il nostro dirigente avrebbe portato 4-5 candidature, tra cui eventualmente anche quella di Murigno, quindi è un sondaggio. Però gli fa comodo buttare nella mischia la palla, confondere le idee per nascondere le proprie colpe. Zero punti su sei, sei li ha fatti Pioli, due li ha fatti zero, grande mister. Siamo noi i primi contenti di quel no che lui ha dato tre anni fa, siamo noi i primi tremendamente contenti. Altrimenti avremmo oggi un allenatore bollito, che fa cinema ma di punti, pochi pochi pochi. Lunga vita mister Pioli, che oggi ho esaltato anche nelle pagelle. Però ragazzi, in questo momento, poi dopo parlo di alcune cose secondo me vergognose, ma lo farò con gusto. Sapete che io in quei video mi scateno e in quelle situazioni lì ci sguazzo. Detto questo ragazzi, squadra straordinaria, emergono le individualità, emergono scusate il senso di gruppo, ma anche alcune individualità in maniera incredibile. Io sono qui che gongolo, che godo e mi lecco le dita, altrimenti si gode soltanto a metà. La prima, clamoroso, clamoroso che forse può essere anche il video, il primo clamoroso è Magic, Mike, Magna. Ragazzi, ma che partita ha fatto ieri? Che parate ha fatto? Ha preso un gol dove lì effettivamente non poteva nulla, ci voleva il teletrasporto per andare a prendere quella palla. Ma che parate ha fatto? Che partita ha fatto? Ha ripreso anche con i piedi a dare soluzioni interessanti. Che partita ha fatto? Ragazzi, questo con la scolorina ha cancellato il precedente portiere. Voglio vedere se dietro a questo schermo siete davanti allo smartphone, al tablet, siete davanti alla televisione. Voglio vedere se ce n'è uno. Uno! Che rimpiange quello che c'era prima. Uno! Ragazzi, questo ha portato parate. Ha portato piedi buoni. Ha portato leadership vera, non chiacchierata, leadership vera, di carisma, in campo e nello spogliatoio. Ha portato anche, diciamocelo, purezza. Ha portato etica. Ha portato spessore umano. Che quell'altro che faceva ricatti non portava. Magic Mike Magnano oggi è il portiere più forte del campionato e io sono qui che godo quando lo vedo giocare, quando lo vedo parare. Ragazzi, è un portiere strepitoso. Pagato poco. 13 milioni di euro. Altra operazione clamorosa di MMM, Moncada Massara e Maldini nell'ordine sparso. Poi, qui andiamo poi anche, avrò una conclusione sul mercato. Tanto voglio dire anche un'altra cosa. Calulu, preso a zero, a zero, non giocava nel Lione, era una squadra B del Lione. Calulu dove lo metti gioca, non gli tremano mai le gambe, tira fuori sempre prestazioni di personalità. grande, grande anche Calulu. Però, i due uomini copertina secondo me sono Mignan, ma soprattutto lui. Ragazzi, Tonali. E qui vado sul discorso mercato anche. Tonali ieri, 90 minuti da più in recupero. 65 palle toccate, 81% passaggi riusciti. Due palle intercettate, scusate mi sono un po' perso, eccolo qui. Poi, poi, poi. Duelli a terra 25 su 6. Ha fatto un fallo e ne ha subiti 4. Palle bloccate 1, intercettate 2, un take. Numeri che, secondo me, non descrivono appieno l'ampiezza della prova di Tonali. Presenza scenica clamorosa. Giocatore totale. Ragazzi, io lo dico, lui è diventato il leader tecnico del Milan. È il che sì dell'anno scorso, lui è il che sì di quest'anno. O meglio, lui è il Tonali. Che tutti ci aspettavamo, che tutti sognavamo. Secondo me sta andando oltre, sta raggiungendo livelli altissimi. Sta diventato un centrocampista dal profilo europeo. E noi l'abbiamo preso con lo sconto. E si è anche ridotto l'ingaggio. Grandissimo milanista. Grandissimo centrocampista. E ora voglio dire una cosa. Dove sono le vedove di Locatelli? Le vedove di Pessina? Dietro questo schermo ce ne sono? Nel caso scrivetemelo pure. Ci sta. Magari potevamo tenercene qualcuno? Non lo so. Ma ragazzi, il più forte ce lo siamo presi. Lo abbiamo preso. Lo abbiamo qui, ce lo coccoliamo, ce lo gustiamo. E Sandrino Tonali. Mamma mia. Che partite sta facendo? Qualcuno oggi ha scritto nei commenti che venga monito col Venezia così salta lo Spezia. Perché poi abbiamo la Juve e c'è l'Inter. Ragazzi, io questi calcoli non li voglio più fare. Confesso, li avevo fatti l'anno scorso con Cabria che aveva saltato lo Spezia. Avevamo perso con lo Spezia ed era iniziato un po' il periodo brutto. Quindi questi calcoli non li voglio fare. Non li voglio commentare ulteriormente. Ognuno l'ave da modo proprio. Io personalmente questo discorso non lo voglio fare. Detto questo, un'altra cosa la voglio dire e qui andiamo sul discorso mercato. È un messaggio a Elliot. Perché si possono prendere giocatori in prestito come Brahim. Si può prendere un altro giocatore in prestito come Florenzi. Si può prendere un giocatore a poco. Saleh Makers. Lo intuizioni. Messias. Si spende poco come Calulo o niente addirittura. Però, però, Tonali, Tomori ci insegnano che quelli forti, forti, forti che possono diventare top player o in parte già lo sono si pagano. Il giusto o magari anche meno perché Tonali secondo me oggi vale molto di più rispetto a quello che abbiamo pagato. Tomori vale molto di più di quello che abbiamo pagato. Questo per dire alla proprietà che gli investimenti che si fanno si spende, però valgono. In campo fanno la differenza e poi valgono anche di più. Quindi sono degli asset anche strategici da questo punto di vista. Detto che noi non facciamo trading player, non vendiamo giocatori per guadagnare soldi. Però abbiamo dei patrimoni. Oggi Tonali è un patrimonio. Tomori è un patrimonio. Qualche soldo va speso ogni tanto. E quindi l'esempio Tonali, l'esempio Tomori spero che possa fare un po' da ispirazione su questa campagna acquisti e che possa essere utilizzato anche da Maldini in sede di dialogo con la proprietà perché qualche denaro fresco venga messo con diritti importanti o con magari soluzioni cash subito. I giocatori forti vanno pagati e fanno la differenza. Tonali oggi è un top player per il nostro campionato. Poi lo misureremo ancora a livello europeo. Secondo me sta raggiungendo livelli importantissimi. Di Tomori abbiamo detto, ma oggi la copertina secondo me va a Mignan. e lo dico con grande e estremo piacere perché la vita continua. Dove sono quelli che ci dicevano senza Donnarumma il Milan perderà 15 punti? Dove sono? Io lo dico oggi e il Milan mi porta a fatto un upgrade a livello di campo, sportivo, a livello di leadership e a livello anche umano, etico, cosa che non guasta mai. Diciamocelo. Avere nello spogliatoio persone di un certo tipo è cosa buona e giusta. Altri che ricattano la società mi devi dare 8 milioni altrimenti me ne vado. Brava la società che dice qual è la porta ma non preparare per uscire e per non vederci mai più. Grande dirigenza su queste due operazioni. Grande Magic Mike, grande Sandrino Tonali. Ragazzi scrivete i vostri commenti qui sotto. io sono davvero contento. Abbiamo profili umani e tecnici clamorosi. Mignan fortissimo. Tonali fortissimo. Oggi voglio dare a loro un approfondimento in più. Credo che sia doveroso. Vi rimando al video di questa mattina ragazzi. Non può essere perso. Uno dei video dell'anno mi sono scatenato. È uno dei video che sprizza più gioia da ogni pixel. Andate a vederlo. Iscrivetevi numerosi. Se lo avete ancora fatto attivate la campanella. È importante. È gratuito iscrivervi. Fate iscrivere i vostri amici. Andiamo a comandare anche qui su YouTube come community. La più bella, rossonera. Qui su YouTube. Lasciate un bel like se la pensate come me. E su Tonali. E su Mignan. Con buona pace di quelli che sono andati. E di quelli che abbiamo anche venduto. Ragazzi. I più forti ce li abbiamo noi. Un abbraccio. E viva Almina. Un abbraccio. Un abbraccio. Un abbraccio. Un abbraccio. Un abbraccio.